L'amministrazione comunale di Sassari offre un contributo per la sterilizzazione delle gatte. Servizio di Valeria Ganadu. Ridurre il rischio di riproduzione incontrollata delle gatte nelle colonie feline incentivandone la sterilizzazione con un contributo di 100 euro. L'amministrazione comunale di Sassari propone una campagna rivolta alle associazioni e ai volontari responsabili gestori delle colonie feline, anche se non sono affiliati ad alcuna associazione, che se interessati dovranno trasmettere una PEC al settore ambiente e verde pubblico il modulo scaricabile dal sito del comune, compilato e sottoscritto, allegando un documento di riconoscimento del sottoscrittore dell'istanza. Il contributo sarà erogato direttamente al sottoscrittore della richiesta dietro presentazioni di fattura del veterinario, che attesterà anche l'avvenuto intervento. In città molte persone si occupano di gatti randagi, dando loro quotidianamente cibo e acqua a proprie spese, talvolta sostenendo anche le cure veterinarie, che non vengono rimborsate da nessuno. Sarebbe bello che anche le colonie non ufficiali venissero censite e che le persone che si occupano dei piccoli randagi fossero in un a qualche modo supportati dall'amministrazione.